1900 è il nome della pièce teatrale originale messa in scena domani sera all'auditorium delle Fornace a Terra Nuova a partire dalle 21. Si ripercorrerà la prima metà del XX secolo attraverso storie di persone comuni che lo hanno vissuto. Domani sera appuntamento alle Fornace a Terra Nuova alle ore 21 con lo spettacolo 1900 presentato dal gruppo teatrale Le Ali di Icaro. Il titolo è 900, la tematica che cos'è? Ripercorre la storia del XX secolo? Sì, ripercorre appunto dal 1900 fino al 1950. Non parla né di intellettuali né di grandi re o appunto grandi personaggi del nostro paese ma parla del popolo, parla della gente. Sono storie che alcune sono tratte appunto da storie vere di persone tra l'altro anche qui dalla nostra terra del Valdarno, altre invece sono storie inventate ma in contesti che erano reali come per esempio Ellis Island negli Stati Uniti dove appunto era quest'isola dove arrivavano gli immigrati italiani. Come detto sul sipario alle 21, ingresso con biglietto unico 5 euro.